Se qualcuno pensava che Luigi Abbate si fosse venduto, che Luigi Abbate non raccogliesse più le segnalazioni dei cittadini, non si battesse per risolvere i problemi che riguardano la vivibilità urbana, evidentemente si è sbagliato. Io sono un uomo libero che raccoglie le segnalazioni dei cittadini e cercherò di essere ancora più incisivo di quanto credo di essere stato finora nel raccogliere quei problemi e andarli a portare con maggiore impegno, con maggiore forza presso gli assessorati competenti, presso gli uffici tecnici, perché al cittadino interessa la risoluzione del problema. Al cittadino non interessa questo spazio video che non deve essere soltanto uno sfogatoio, ma deve essere uno strumento per risolvere il problema, altrimenti diventa un parlare senza il perseguimento, il raggiungimento dell'obiettivo. Mi trovo in via Sorcinelli, via Sorcinelli è una traversa di Viale Virgilio, è un'arteria importante perché permette poi da Viale Virgilio a entrare in altre arterie cittadine e c'è uno stato davvero molto ma molto precario, molto ma molto disastrato per quanto riguarda i manti stradali, il manto stradale per quanto riguarda i mattoni. Mattoni che rappresentano delle vere trappole, proprio perché si vengono a verificare continui dislivelli e quindi rappezzi, rattoppi che peggiorano la situazione. La gente cade, si fa male e poi chiaramente si chiedono i danni all'amministrazione comunale. Allora io sto sottoponendo all'attenzione del sindaco, all'attenzione dell'assessorato ai lavori pubblici, dell'assessore ai lavori pubblici Mimmo Ciracci, questa problematica, questa situazione. Cerchiamo di intervenire su questa in via Sorcinelli. Per carità via Sorcinelli merita l'attenzione come la meritano altre tante strade che presentano pesanti situazioni di degrado e di decozione. Ma è ovvio che non devono esistere figli e figliastri tra le vie, quindi non è che io, come dire, raccomando una via rispetto ad un'altra, per carità, ma, ripeto, via Sorcinelli è, come dire, gettonatissima tra virgolette quanto a richieste di interventi. E allora, per cortesia, proprio mi rivolgo al sindaco, all'assessore Ciracci. Ecco, mettiamoci nei panni, facciamo conto che a camminare qui sia una nostra mamma, una nostra zia, una persona anziana, nostra moglie col passeggino. Cerchiamo di risolvere, di rifare questa strada. Certo, ci sono dei costi, ci sono dei tempi, ma, per cortesia, mettiamola in programma. Non è una richiesta personale, ma è una richiesta a nome appunto della cittadinanza. Marciapiedi ed asfalto. Mettiamoli in programmazione e possibilmente in rapida realizzazione.